Il regime fascista di Lussolini. Nessuno sconto a 70 anni da quel regime può essere fatto. Non vi furono solo le leggi razziali di responsabilità del fascista italiano. Il fascismo fu una dittatura ancora prima delle leggi razziali, che uccise in questo paese la libertà, che perseguì, condannò, torturò, uccise migliaia di antifascisti in questo paese. Fu il punto più basso della storia recente di questo paese, nel quale si tentò di uccidere la libertà. Da quel regime siamo usciti con una guerra sanguinosa, con la resistenza e con la liberazione. Abbiamo iscritto nella nostra Costituzione ciò che si deve fare e dire perché mai più una dittatura di quel tipo fascista possa tornare in questo paese. Nessuno in questo paese utilizzi il giorno della memoria per fare sconti a quel regime terribile, a quella dittatura, emblema del punto più basso della nostra civiltà, che fu responsabile e complice del regime nazista nella discriminazione e nella deportazione di migliaia di ebrei italiani. Noi ricorderemo per sempre ciò che è successo, come parola incisa sulla pietra, nel nostro cuore e nella nostra mente. Le ringrazio. Grazie a tutti. Grazie.